Non aprite quella porta, era questo il titolo di un vecchio film horror, ma se a suonare il campanello di casa è l'incaricato del comune di Giarre che deve effettuare la lettura del contatore dell'acqua, la porta è il caso di aprirla. E invece sembrerebbe che molti giarresi non stiano aprendo la porta di casa a questi addetti perché non si fidano. E date le truffe di cui si sente spesso parlare in giro, non si possono dare tutti i torti. Da fine novembre, spiega il consigliere comunale Armando Castorina, è stato avviato il servizio di lettura dei contatori dell'acqua, un servizio che viene eseguito da una ditta esterna per conto del comune di Giarre. Tuttavia, forse a causa del fatto che non è stato adeguatamente pubblicizzato al momento dell'avvio, pare che ci siano molti utenti che non aprono la porta di casa per una questione di diffidenza. E' opportuno che quindi i cittadini sappiano che è in corso questo servizio di lettura del contatore dell'acqua. Gli addetti alla lettura sono identificabili, tuttavia se non ci si fida ugualmente e si ha paura di brutte sorprese, si può contattare o recarsi personalmente presso l'ufficio idrico comunale che si trova nella sede di Viale Federico II di Svevia per comunicare la lettura del contatore dell'acqua o per ricevere indicazioni su cosa fare. Grazie. Grazie.